Consigliera regionale Mara Piccin, Lega Nord, due domande sulla riforma del Senato e sulle autonomie speciali, sull'autonomia del Friuli Venezia Giulia poi in particolare. Stiamo per abbandonare il bicameralismo perfetto, senza però rinunciare al Senato. Potevamo farne a meno? Forse sì, forse no. Di certo è che dal nuovo Senato potrebbero derivare opportunità di rafforzamento virtuoso per l'Italia delle regioni? Potrebbe essere, questo è un auspicio importante. Io credo che il superamento del bicameralismo perfetto sia fondamentale per uno Stato che comunque deve essere più dinamico. Dico che cosa ricaveranno le regioni da tutto questo? Probabilmente qualche cosa di positivo. Non vorrei che la riduzione delle persone a 100, sicuramente abbiamo fatto grandi ragionamenti in merito alla spending review, sicuramente bisognava intervenire. Non vorrei però che questo numero così limitato fosse penalizzante rispetto alle piccole realtà come la nostra e particolari come la nostra. Relativamente poi alla nostra regione a statuto speciale c'è un grande dibattito su questo. È evidente che ci sono condizioni che sono mutate nel tempo, condizioni storiche che sono mutate. Evidente però che la specialità della nostra regione va conservata e difesa non rinunciando a questa specialità e questo credo che possa valere anche per le altre speciali, ma eventualmente ampliandola rispetto a quello che sono le altre regioni e che di questa specialità non godono. Già nella riforma dell'articolo quinto nel 2001 le regioni a statuto ordinario ottenevano più competenze, aprendo così un dibattito sul ruolo, sulla funzione e sull'attualità delle regioni invece a statuto speciale. Cioè quelle dalla Sicilia, la più vecchia, nata nel 1948, al Friuli Venezia Giulia un po' più relativamente recente nel 1963. Un dibattito come dicevamo che non si è esaurito assolutamente. Ma non basterebbe a questo punto l'assioma più autonomia e più specialità per tutti? Sì, è quello che dicevo un po' prima, più specialità e più autonomia per tutti, perché questo ci metterebbe in una condizione assolutamente favorevole rispetto a tutti gli altri, ma rispetto anche allo Stato centrale. In una situazione economica come quella che c'è e che stiamo vivendo, di assoluta carenza di risorse per i territori, non vorremmo che riforma del titolo quinto e spostamento di competenze regionali verso il centro significasse in qualche modo togliere alla periferia per portare altrove. Non credo che i nostri territori, e in particolar modo il Friuli Venezia Giulia, che per sua posizione geografica deve comunque tra virgolette misurarsi con realtà che non sono appartenenti solo al nostro Stato, ma noi siamo una regione di confine. Noi dobbiamo in qualche modo confrontarci con misure, ad esempio fiscali, e parlo delle nostre imprese, e parlo per esempio di costi di energia e quant'altro, di assoluto favore altrove rispetto a noi. Quindi io credo che se maggiore specialità per tutti significa maggiore autonomia per tutti, siamo sulla linea giusta. Se invece riforma del titolo quinto della Costituzione significa in qualche modo togliere alla periferia per riportare al centro con il pretesto che la periferia in qualche modo spende in modo poco opportuno rispetto al territorio, non credo che questa sia la strada giusta. Un'ultima domandina. Questo nuovo Senato, c'è chi dice, sarà costituito da persone un po' a mezzo servizio. Una Mara Piccin, per esempio consigliera regionale, è anche senatrice. Un sindaco, per esempio, che fa anche il senatore. Questo può rappresentare un limite all'efficienza della persona stessa e dei ruoli stessi? Ma dipende poi da quale sarà. Io ho ancora un po' le idee confuse su quello che sarà il ruolo effettivo del Senato, devo dire la verità. Forse è un problema solo mio, ma insomma credo che alcune strade debbano essere ancora percorse e definite. Io dico che il lavoro di legislatore in un consiglio regionale è un lavoro di assoluto impegno e oserei dire totalizzante. Se quello che si vuole fare a Roma all'interno di questo nuovo Senato sarà il portare avanti le richieste del territorio sulla linea di ciò che viene fatto nelle rispettive regioni, ci siamo. Se invece significa sovraintendere in qualche modo ad un lavoro che qualcun altro fa, forse credo che sia un pochino più complicato.